Svolta per il polo feristico di Rimini, è tanti anni che si parla della quotazione in borsa, ebbene questa avverrà con tutta probabilità nel prossimo autunno. Martedì mattina la quinta commissione del comune di Rimini ha dato parere favorevole alla quotazione in borsa della società che gestisce le fiere di Rimini e Vicenza, IEG. Perché era importante questo parere? Perché il comune controlla la società Rimini Holding e questa a sua volta detiene quote di partecipazioni in IEG e dal suo giudizio dipende il collocamento in borsa della fiera. Quali vantaggi può trarre il territorio di Rimini da questa quotazione in borsa? Questo interesse pubblico oggi è tutelato in questo progetto di quotazione attraverso la tutela delle manifestazioni storiche, ovvero quelle che producono un fatturato solo per 3 milioni di euro nelle sedi proprie. L'ingresso nel mercato azionario consentirà dunque di blindare le grandi manifestazioni come SIGEP, Ecomondo, TTG Incontri e Wellness a Rimini. Sul valore che l'operazione può raggiungere ancora non ci si sbilancia, ma per Brasini la fiera potrà contare su un aumento minimo di capitale di 45 milioni di euro e sul dimezzamento dei debiti di Rimini Congressi che oggi valgono 35 milioni. A cosa potrà servire l'aumento di capitale? Avere quel fisico e quella forza per non farsi aggredire, quindi per far sì che sia essa stessa una società proattiva sia sul mercato fioristico sia verso potenziali e auspicate future aggregazioni con altre società di tipo fioristico congressuale. Ci ingrandiamo per difenderci da un mercato sempre più aggressivo. Questo il succo per Palazzo Grampi che dopo 4 anni ha dunque deciso di dare esecuzione alla delibera con cui già all'epoca si sosteneva il progetto di quotazione. Un ritardo che Brasini giustifica con l'attesa dell'avvenuto miglioramento delle performance della fiera negli ultimi anni.